Ciao beautine! Bentornate in questo nuovo video! Allora oggi vi propongo questo look occhi davvero drammatico è uno smokey eyes su tonalità del viola e del grigio scuro luminoso un look che sta benissimo un po' a tutte e adatto ovviamente per la sera direi quindi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial iniziamo con il mio solito ad applicare il correttore sotto la palpebra e l'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare e nella piega dell'occhio Nella parte finale dell'occhio, nella piega dell'occhio e all'attaccatura delle ciglia inferiori applico questo ombretto viola con una punta di foxy al suo interno Sulla palpebra mobile e lo vado a sfumare molto bene nella piega dell'occhio applico questo bellissimo ombretto grigio scuro luminoso intensifico la parte finale dell'occhio e l'attaccatura delle ciglia inferiori applicando l'ombretto nero Nell'angolo iniziale dell'occhio creo un punto luce utilizzando questi due illuminanti con riflessi viola e successivamente gli do quel tocco di fucsia applicando l'illuminante di fianco che è sul rosa Realizzo la mia solita riga di eyeliner nera Nella rima interna inferiore e superiore dell'occhio applico la matita nera che vado a fissare successivamente con l'ombretto nero e termino il trucco occhio applicando il mascara sia sui ciglia superiori che inferiori dell'occhio Ed il tutorial è terminato, vi lascio come mio solito alle immagini finali noi ci vediamo ovviamente nel prossimo video vi mando un bacione grandissimo e vi saluto Ciao beautine! Ciao!